E sulla manifestazione milanese, sulla proposta di abolizione delle province abbiamo sentito Francesca Zaccariotto, sindaco leghista di San Dona di Piave e contemporaneamente presidente della provincia di Venezia. Oggi io credo che bisogna cominciare ad affrontare il problema della fondamenta, quindi fare un ragionamento sull'opportunità o meno delle regioni, delle province a statuto autonomo e capire che un'Italia non è fatta di tanti figli e che nel momento in cui tutti insieme gridiamo all'unità d'Italia, questa unità passa anche nel non essere province di serie A e province di serie B, ma cominciare a muoversi verso anche un richiamo che il nostro governo ci fa in maniera tutti uguali e che quindi anche in questo non ci sia una distinzione. I tagli agli enti locali non si inseriscono secondo me in questa logica, se noi pensiamo che solo la provincia di Venezia ha lavorato in questo anno e mezzo ad esempio per tagliare un milione di Euro su quella che è la spesa dei dipendenti e poi leggiamo sulla stampa che la regione Sicilia invece ha aumentato quella che è la spesa del personale con le relative assunzioni, è chiaro che qualcosa non sta funzionando. E quindi non è possibile, questo io lo chiedo anche alla mia lega, che continuiamo a portare avanti posizioni legate a delle specialità che oggi non hanno più ragione di esistere.